Appuntamento con il divertimento al San Marco Beach, venerdì 14 agosto, ore 21, aspettando Ferragosto, sole, mare, buon cibo, animazione e tanta musica, DJ set a cura di Vittorio Cassinesi, venerdì 14 agosto, ore 21, aspettando Ferragosto, San Marco Beach, con trada Fontanelle Trani, per info e contatti 349 1456 328, San Marco Beach E state con noi